Penso a quando c'eri, come si guarda e si riguarda un quadro. Cerco il dettaglio traditore nel cartiglio e nel guizzo della salamandra, lo zampino del pittore con la firma tra il pizzo di fiandra. Ma neanche l'invecchiare mi rivela in che punto la bellezza è fuoriuscita dalla tela e se per caso o per volere eravamo l'esempio migliore di un falso d'autore.